Da oggi il liceo classico Cotugno è accorpato in un'unica sede. Le classi del corso C, infatti, che erano ubicate presso la scuola media Carducci, sono state spostate nella sede di via Madonna di Pettino, nel MUSP che era prima della dottrina cristiana. Grazie a lavori per circa 40.000 euro effettuati sulla struttura MUSP e all'acquisizione delle certificazioni di sicurezza antincendio, è stato possibile riunire, così, tutte le classi del liceo. A parlarne è stato il consigliere provinciale delegato all'edilizia scolastica Vincenzo Calvisi. Questa soluzione, ovviamente, è una situazione transitoria, ma è certamente migliorativa per tutti gli studenti e per il personale. Proseguono intanto i lavori nella sede di via Leonardo da Vinci a Pettino. L'obiettivo è farla tornare pienamente fruibile durante l'anno scolastico 2019-2020. Sono già in corso da settembre i lavori per circa un milione di euro sui corpi F e G, quegli oggetto di ricorso al TAR. Per quanto riguarda invece gli altri corpi, A, C, D, E, sono già stati stanziati 350.000 euro, ma la provincia prevede che nel bilancio 2009 andranno stanziate ulteriori risorse, con l'obiettivo, al netto dei tempi della burocrazia, di riportare tutto il plesso alla piena fruibilità. Intanto, nel corso del 2019, sarà definito anche il protocollo d'intesa tra il Comune e la provincia per l'utilizzo dell'area della Caserma Rossi. Ci sono infatti 13 milioni di euro per costruire la nuova scuola e fare una sede unica di tutti i licei del convitto Cotugno. Tra l'altro, il 5, ci sarà la sottoscrizione del protocollo tra il Comune dell'Aquila e l'Agenzia del Demanio, proprio per acquisire nel più breve tempo possibile l'area della Caserma Rossi.